che renderà quegli esercizi noiosi e dolorosi divertenti ed efficaci guardate che risultati hanno ottenuto queste persone con a b rocket colo e schiena sono sostenute per la prima volta sono protetti dal colp arvi ed offre tutte da oggi riceverete un dvd incluso nel prezzo con oltre 40 minuti di esercizi per a tutti questa è una televendita con una semplice ascia avete del mal di colo con una semplice ascia potete risolvere i vostri problemi basta appoggiare lentamente lascia sul mento e e velocemente alzarla il mal di colo passare in un attimo ecco qui lascia solo per oggi invece che 259 euro e 99 costerà 259 euro e 98 centesimi spedizione gratuita chiamate subito mentre per quanto riguarda il problema ai polpacci abbiamo un ottimo articolo ecco qui osservate se avete dei tic e siete in depressione questo è il modo esatto di uscirne mordete l'ascia mentre date dei calci all'aria questa ascia è venduta a soli 259 euro pericola 99 centesimi spedizione gratuita solo oggi è un offerto 260 euro mentre volete dei glutei sodei voi ragazzi volete dei glutei sodei come questa bellissima esemplare di lux tra poco inizierà l'estate siamo quasi a dicembre tra poco l'estate inizierà e quindi se volete i glutei sodei dovete fare stringi 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 forte 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 e lascia andare e stringi 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 e lascia andare e ora un po di esercizio di gruppo ecco 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 questa i foto modelli ecco qua attenzione attenzione ecco qua vabbè raga qui cane lupo spero che il video su come fare ginnastica su league of legend vi sia piaciuto un saluto da cane lupo da tias bella da frank bella a tutti raga bella a tutti raga qui cane lupo ed è il momento di fare un po di ginnastica per tenerci in forma uno due tre quattro un po di stretching quattro quattro ancora quattro 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 non ha già uno due tre e quattro uno due e tre e quattro vai ora divertiamoci un po' ora attenzione ruotiamo un po' i polsi ok per lucian è abbastanza